no c'è tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono la rover e come avrete già letto dal titolo siamo in compagnia di ivange saluto ciao a tutti e ragazzi in questo video su gta 5 online io e ivan vi faremo vedere come sono e dove si trova appunto la fortezza dei cannibali e come sono i cannibali come sono fatti e niente allora si trovano qua ecco qua questa è la fortezza in questo piccolissimo posto e niente ragazzi siamo quasi arrivati penso siamo quasi arrivati ivan vero mancano tre filometri ok allora ok tra l'altro io non siamo anche vicino a forte zancudo guarda se poco poco ci passiamo sopra c'è quattro stelle diretti proprio c'è questo elicottero spara pure c'è quindi mamma mia ok ecco siamo arrivati penso manca pochissimo ecco già inizia a vedere già si inizia a vedere ecco la fortezza ok ecco qua e mamma dove sta non la trovo non la vedo più da più avanti eccole ecco la stella ivan che facciamo ci lanciamo col paragadute oppure atterriamo con l'elicottero con l'elicottero oppure come ci torniamo allo fanno vabbè infatti ok allora ecco qua ok ragazzi quella è la fortezza dei cannibali avete proprio avete proprio sentito bene la fortezza dei cannibali e ok atterriamo ivan facciamo subito bordello contro i cannibali ok ok metti la tua arma più forte eh sì la carabina speciale penso sia la mia arma più forte ok ecco già ci hanno visto ivan eccolo aspetta dove cacchio eccolo eccolo oh sì mamma mia vai 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 entriamo entriamo ivan entriamo vai ok ti ricordi come si fa e le carabina scusate vieni il punto si ha specifico fuori montagna what the hell ma che cacchio eh vai cecchino va fai edici oh merda cacchio boh mamma mia eh dai già la pula cosa ivan eh entri entri dai madonna guarda quanti sono eccolo ok oh ma siete quello scusa 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 mamma mia quanti cacchio sono madonna sono pure abbastanza forti cannibali vedi man quella pistola che sono in group oh ma non me lo ammirava cacchio aspetta ho pochissima vita cacchio cacchio ma è scappato dai vieni oh mio dio ivan no cacchio ce n'è un altro ivan quello di ieri con il coso di fuori dai no mo non so neanche come ti fa censurare vai infatti nascondiamoci qua ah ecco i cannibali del cacchio mi fanno a vedere i cannibali guarda quanti cacchio sono quella è la pula oh madonna no 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 erano proprio cannibali vabbè mi nascondo mi mimetizzo cacchio sta puntata di gta sarà epica cacchio ah mi vedono oh madonna eccolo boom 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 mamma mia la cara io due io due cacchio ma due cacchio quelli stanno fuori eh vieni qui dove sto io ma c'ho tre stelle mi vedono subito vabbè 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 no non mi stanno vedendo è la pò stelle ecco grazie mi hanno visto anche a me mi hanno visto cacchio eh vabbè ho pure cambiato vestito nel frattempo oh ce l'ho di cattolo mamma mia aspettate aspettate eccolo oh boom boom oppure ho capito cacchio no sei morto oh ma che cacchio no cacchio cioè sono volato dalla fortezza eh non puoi capire mi sei aperto il paracadute eccolo oh mio dio guarda quante poliziotte cacchio oddio uno è volato ha iniziato a rotolare per la montagna eh mannaggia eh cacchio cioè cioè Ivan quando ti circondano i poliziotti cannibali è finita è finita cioè mo dove sta l'entrata l'entrata di prima aspetta andiamo un po' a camminare ci sta ancora l'elicottero pam 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 no io ho fatto esplodere quello di prima ma era venuto un altro po' di elicottero ecco tu sei quello là sopra ecco sto salendo perché sei in pausa stavo vedendo lo vero ah 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 oddio dio santa aiuto stavo regolando quasi ok ce l'ho fatta salire ok devo trovare un sistema per salire oh no cacchio oh no 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 eh devo stare l'iperforzato dall'altra parte Ivan vabbè vabbè tanto ho fatto ecco mi è circondato oh mio dio aspetta uno sta pure qua sopra mi sa io metto la silenziosa almeno spero che i poliziotti non mi sentino ma no eccolo esci no eccolo boom oh ma non muore questo porco due vabbè ci sta ancora quello sopra la montagna aspetta lo giocchino eccolo ma non è lui vabbè non muore sono immortali no eh ok ho poca vita è la rossa oh cacchio non sale eccolo qua vai 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 ok io vado a rinascendiglio e salto i van hai la pula quante stelle due due ma al solito è nascendiglio eh eccolo no io non ho la pula ma c'è però sento già le sirene che si avvicinano quindi pure io oh i cannibali non si fanno i cannibali non oddio no e ce ne sta uno proprio là aspetta è cacchio però ci sta la pula quindi ah oddio santo oddio santo oddio santo spara 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 ah mi vedono ancora no io i cannibali mo c'ho pure la pula cacchio boom crepate i cannibali io non c'ho la pula afferminata io ho una stella oh eh vedete che sono io eh lo so ma io sto mirando ma non voglio mirare a te è da solo che cioè il personaggio mirare da solo a te perché sei un altro giocatore quindi lo cacchio boom ah ho poca vita ecco qua eh sono morto in pratica madonna eccolo boom crepa due stelle vabbè e a me non mi sta vedendo Ivan coprimi coprimi a me eh perché io sto cercando di seminare la polizia però cioè ci stanno i cannibali che mi sparano quindi ho un problema però ecco ora no e no prima ci stavano tre cannibali che mi sparavano vabbè comunque la polizia non mi sta vedendo e neanche i cannibali ma ho trovato un nuovo nascondiglio chi te guarda qua seminata vai quale nascondiglio qua sto ah là ebbè ma non ci si possa lì penso eh vabbè eeeh quei cannibali si fanno sentire troppo pure mamma mia boom eomma e mo eeeh la pola e sono scomparsi i cannibali proprio così random è la pula eh lo so lo so comunque Ivan pensa di fare pure bordello contro la pula se no non c'è gusto oh cacchio eh beh però c'è un cannibale proprio qua dove cacchio so eccolo eccolo madonna quanti cacchi sono è di cacchi è di cacchi alcuni scappano pure perchè scappano io perchè hanno paura perchè c'è la cura ecco vedi stanno scappando un po' più che ora sono in difetti infatti non ci attaccano più eh però il pallino rosso ci sta è vero il pallino rosso ci sta ugualmente ok si è avvicinato perfetto ok io mi sto nascondendo ah chi è la pula vabbè devo trovare non non funziona più cioè è la pula proprio a fianco a te vedete e tu non hai la pula però è l'asseminata vai 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 oh Ivan so quasi so quasi il rango 88 eh aspetta un po' ancora eh quello che volevo dire dove sta io vedo di te sei ora davanti nell'erba ah hai la pula stai passando anche la pula si vabbè semmai guarda ti dico cosa sta venendo la vedete tanto eh bella notta oh guarda quello di cottero della pula che ho fatto esplodere prima si l'ha visto non ti camminare ecco sei minata grande vai e mo che famo Ivan aspettiamo che arrivano altri cannibali ecco lì eh porco due mi occhia oh ma dai eh lo so mi mira da solo ancora cioè mi mira da solo non ti voglio sparare non voglio sparare a te che cacchio eccolo c'è un cannibale boom morto eh vai 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 ah vai non vi sta vedendo la pula vai 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 vieni 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 ah vabbè corri 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 si la pula sta dall'altra parte in pratica vabbè ma anche così qua fuori perché così non si vedono i cannibali e possiamo cioè mi posso nascondere meglio cioè se mi sparano i cannibali poi io devo sparare cannibali e la puta e la pula mi rivede quindi sto pure per morire ma non ho la vita rossa c'è un cannibale dove è chiuso oppure seminato la pula aspera mi metto in prima persona o cacchio vai così è la vita davanti stavo sparando davanti cacchio eccolo vai vai lasciala c'è chi nato e molla pula eppure sto sparando google mitragetta silenziatore vai uccidilo uccidilo morto la vita non 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 ecco ok vai 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 ok perffetto Mi copi il nostro mio Mi sto stendo, perché? Ancora non mi vedono, ancora non mi vedono Perché ho fatto quel verso? Non mi sta vedendo, mi sta passando a schiavo Neanche a me Oh mamma mia Siamo circondati Eh infatti Però non si vede Perché la potenza dell'albero Mi hanno visto? A me no Ah ecco ora mi hanno visto cacchio Ah no 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 Veloce a ricaricare Madonna Cacchio Ah eh Sono morto Sono morto Ma non mi vedono perché ho rotulato via Vabbè Ok ragazzi Il video di oggi si conclude qua Mi raccomando Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto Commentate Lasciate tanti bei pollicioni in su Come sempre Dal vostro la rover è tutto E da Ivan Bella A tutti ragazzi Ciao iscriviti al canale Ciao iscriviti al canale